Statuti dell'Unionismo Luzionario Associazione Internazionale dei Lavoratori, IUA Ultimo Aggiornamento. 27 giugno 2021 Introduzione La storia dell'umanità è formata dalla lotta tra sfruttatori e sfruttati, che si manifesta attualmente negli attacchi del capitalismo dello Stato alla classe operaia in tutti i settori della vita. Capitalisti, manager politici si stanno organizzando per far. Avanzare i propri interessi il più possibile. Se vogliamo porci a loro, promuovere i nostri interessi e costruire la società che desideriamo, dobbiamo superare la debolezza e la disorganizzazione del movimento operaio. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario organizzarci in una struttura di combattimento che unisca tutti i lavoratori rivoluzionari di tutto il mondo. Le azioni di tale organizzazione devono dimostrare di essere in grado di superare il capitalismo e lo Stato. Un movimento di emancipazione così costruito non può accettare la linea di azione sollecitata da quelle correnti del movimento operaio che aspirano all'armonia tra capitale e lavoro, aspirando alla pace internazionale con il capitalismo e all'incorporazione nello Stato. Ne può accettare quelle correnti che propagano l'esistenza dello Stato alla dittatura del proletariato, che è contraria al nostro obiettivo di una società basata sulla massima libertà e benessere per tutti. Contro l'offensiva del capitale e dei politici di ogni colore, tutti i lavoratori rivoluzionari del mondo devono costruire una vera associazione internazionale dei lavoratori, nella quale, ogni membro saprà che l'emancipazione della classe operaia sarà possibile solo quando gli stessi lavoratori, nella loro qualità di produttori, riescono a prepararsi nelle loro organizzazioni politico-economiche a prendere possesso della terra e delle fabbriche ad abilitarsi ad amministrarli congiuntamente, in modo da poter continuare la produzione e la vita sociale. Considerando questa prospettiva e questo obiettivo, il dovere dei lavoratori è quello di partecipare a tutte le azioni che portano a una trasformazione rivoluzionaria della società, cercando sempre di andare verso i nostri obiettivi finali. Dobbiamo far sentire la nostra forza attraverso questa partecipazione, sforzandoci sempre di dare al nostro movimento, attraverso l'organizzazione, l'azione e la propaganda, i mezzi necessari per soppiantare i nostri avversari. Allo stesso modo, ove possibile, dobbiamo realizzare il nostro sistema sociale attraverso modelli ed esempi, e le nostre organizzazioni devono esercitare, nei limiti delle loro possibilità, la massima influenza possibile su altre tendenze affinché possano essere incorporate nella nostra lotta, che è la lotta comune contro tutti gli avversari statalisti e capitalisti, tenendo sempre. Presenti le circostanze di luogo e di tempo, ma rimanendo fedeli agli obiettivi del Movimento per l'emancipazione dei lavoratori. I. I principi dell'unionismo rivoluzionario o il sindacalismo rivoluzionario, basandosi sulla lotta di classe, mira a unire tutti i lavoratori in organizzazioni economiche combattive, che lottano per liberarsi dal doppio gioco del capitale e dello Stato. Il suo obiettivo. È la riorganizzazione della vita sociale sulla base del comunismo libertario attraverso l'azione rivoluzionaria della classe operaia. Poiché solo le organizzazioni economiche del proletariato sono in grado di aggiungere questo obiettivo, il sindacalismo rivoluzionario si rivolge ai lavoratori nella loro qualità di produttori, creatori di ricchezza sociale, per radicarsi e svilupparsi tra loro, in. Opposizione ai moderni partiti operai, che si dichiara incapace di riorganizzazione economica della società. Il sindacalismo rivoluzionario è il nemico accenito di ogni monopolio sociale ed economico e mira la sua abolizione mediante l'istituzione di comunità economiche e organi amministrativi gestiti dai lavoratori dei campi e delle fabbriche, formando un sistema di consigli liberi senza subordinazione ad alcuna autorità o politica festa, nessuno escluso. In alternativa alla politica dello Stato e dei partiti, il sindacalismo rivoluzionario pone la riorganizzazione economica della produzione, sostituendo il dominio dell'uomo sull'uomo con la gestione amministrativa delle cose. Di conseguenza, l'obiettivo del sindacalismo rivoluzionario non è la conquista del potere politico, ma l'abolizione di tutte le funzioni statali nella vita della società. Il sindacalismo rivoluzionario ritiene che con la scomparsa del monopolio della proprietà debba avvenire la scomparsa del monopolio del dominio, e che nessuna forma di Stato, per quanto mimetizzata, potrà mai essere strumento di liberazione umana, ma che, al contrario, sarà sempre creatrice di nuovi monopoli e di nuovi privilegi. Il sindacalismo rivoluzionario ha una duplice funzione, portare avanti la lotta rivoluzionaria quotidiana per il progresso economico, sociale e intellettuale della classe operaia entro limiti della società odierna, ed educare le masse in modo che possano essere pronti a gestire in autonomia i processi di produzione e distribuzione quando arriva il momento di impossessarsi di tutti gli elementi della vita sociale. Il sindacalismo rivoluzionario non accetta l'idea che l'organizzazione di un sistema sociale basato esclusivamente sulla classe produttrice possa essere ordinata da semplici decreti governativi sostiene che possa essere ottenuta solo attraverso l'azione comune di tutti i lavoratori manuali e intellettuali, in ogni ramo della industria, mediante l'autogestione dei lavoratori. In modo che ogni gruppo, fabbrica o ramo di industria sia membro autonomo del più grande organismo economico e gestisca sistematicamente i processi di produzione e distribuzione secondo gli interessi della collettività, secondo un accordo concordato piano e di comune accordo. Il sindacalismo rivoluzionario si oppone a tutte le tendenze organizzative ispirate al centralismo di Stato e Chiesa. Perché queste non possono che servire a prolungare la sopravvivenza dello Stato e dell'autorità e a soffocare sistematicamente lo spirito d'iniziativa e l'indipendenza di pensiero. Il centralismo è un'organizzazione artificiale che assoggetta le cosiddette classi inferiori a coloro che si dichiarano superiori e che lascia nelle mani di pochi gli affari dell'intera comunità, l'individuo viene trasformato in un robo con gesti e movimenti controllati. Nell'organizzazione centralizzata, il bene della società è subordinato agli interessi di pochi, la varietà è sostituita dall'uniformità e la responsabilità personale è sostituita da una rigida disciplina. Di conseguenza, il sindacalismo rivoluzionario fonda la sua visione sociale su un'ampia organizzazione federalista, cioè un'organizzazione che nasce dal basso, l'unione di tutte le forze nella difesa di idee e interessi comuni. Il sindacalismo rivoluzionario rifiuta ogni attività parlamentare e ogni collaborazione con organi legislativi, perché sa che anche il sistema di voto più libero non può far scomparire le evidenti contraddizioni al centro della società odierna e perché il sistema parlamentare ha un solo obiettivo, dare una pretesa di legittimità al regno della menzogna e dell'ingiustizia sociale. L'unionismo rivoluzionario rifiuta tutte le frontiere politiche nazionali, create arbitrariamente, e dichiara che il cosiddetto nazionalismo è solo la religione dello Stato moderno, dietro la quale si celano gli interessi materiali delle classi possidenti. Il sindacalismo rivoluzionario riconosce solo. Le differenze economiche, regionali o nazionali, che producono gerarchie, privilegi e ogni tipo di oppressione, a causa di razza, sesso e ogni falsa o reale differenza, e nello spirito di solidarietà rivendica il diritto all'autodeterminazione per tutti i gruppi economici. Per lo stesso motivo, il sindacalismo rivoluzionario combatte contro il militarismo e la guerra. Il sindacalismo. Rivoluzionario sostiene la propaganda contro la guerra e la sostituzione degli eserciti permanenti, che sono solo gli strumenti della controrivoluzione al servizio del capitalismo, con le milizie dei lavoratori, che, durante la rivoluzione, saranno controllate dai sindacati dei lavoratori, richiede anche il boicottaggio e l'embargo di tutte le materie prime dei prodotti necessari per la guerra. Ad eccezione di un paese in cui i lavoratori sono nel mezzo della rivoluzione sociale, nel qual caso dovremmo aiutarli a difendere la rivoluzione. Infine, il sindacalismo rivoluzionario sostiene lo sciopero generale preventivo e rivoluzionario come mezzo per opporsi alla guerra e al militarismo. Il sindacalismo rivoluzionario riconosce la necessità di una produzione che non danneggi l'ambiente, e. che cerchi di ridurre al minimo l'uso di risorse non rinnovabili e utilizzi, ove possibile, alternative rinnovabili. Non ammette l'ignoranza come origine dell'attuale crisi ambientale, ma la sete di guadagno. La produzione capitalista cerca sempre di minimizzare i costi per ottenere maggiori guadagni per sopravvivere, e non è in grado di proteggere l'ambiente. In sintesi, la crisi del debito. Mondiale ha accelerato la tendenza al raccolto commerciale a scapito dell'agricoltura di sussistenza. Questo fatto ha prodotto la distruzione della foresta tropicale, la fame e le malattie. La lotta per salvare il nostro pianeta e la lotta per distruggere il capitalismo devono essere congiunte o entrambe falliranno. Il sindacalismo rivoluzionario si afferma come sostenitore del metodo dell'azione diretta, e aiuta e incoraggia tutte le lotte che non sono in contraddizione con i propri obiettivi. I suoi metodi di lotta sono, scioperi, boicottaggi, sabotaggi, ecc. L'azione diretta raggiunge la sua espressione più profonda nello sciopero generale, che dovrebbe essere anche, dal punto di vista del sindacalismo rivoluzionario, il preludio della rivoluzione sociale. Mentre il sindacalismo rivoluzionario si oppone a tutta la violenza organizzata indipendentemente dal tipo di governo, si rende conto che ci saranno scontri estremamente violenzi durante le lotte decisive tra il capitalismo di oggi e il libero comunismo di domani. Di conseguenza, riconosce come valido che la violenza possa essere usata come mezzo di difesa contro i metodi violenti usati dalle classi dirigenti durante le lotte che portano all'espropriazione delle terre e dei mezzi di produzione da parte del popolo rivoluzionario. Poiché questa espropriazione può essere effettuata e portata a buon fine solo con l'intervento diretto delle organizzazioni economiche rivoluzionari dei lavoratori, la difesa della rivoluzione deve essere compito anche di queste organizzazioni economiche e non di un organismo militare o quasi militare che si sviluppa indipendentemente da essi. Solo nelle organizzazioni economiche rivoluzionarie della classe operaia esistono forze capaci di determinarne la liberazione e l'energia creativa necessaria per la riorganizzazione della società sulla base del comunismo libertario. I.I.Nome dell'organizzazione internazionale Il vincolo internazionale di lotta e solidarietà che unisce le organizzazioni sindacali rivoluzionarie del mondo si chiama. International Workers Association, I.I.V. Scopi e obiettivi dell'I.I.A. Ai seguenti obiettivi, organizzare e premere per la lotta rivoluzionaria in tutti i paesi con l'obiettivo di distruggere una volta per tutti gli attuali regimi politici ed economici ed instaurare il comunismo libertario. Dare alle organizzazioni economico-unioniste una base nazionale e industriale e, laddove già esiste, rafforzare quelle organizzazioni che sono determinate a lottare per la distruzione del capitalismo dello Stato. Prevenire l'infiltrazione di qualsiasi partito politico nelle organizzazioni sindacali e economiche e combattere risolutamente ogni tentativo dei partiti politici di controllare i sindacati. Laddove le circostanze lo richiedano, stabilire attraverso un corso di azione che non sia. In contraddizione con A, B, e C, alleanze provvisorie con altre organizzazioni proletarie, sindacali e rivoluzionarie, con l'obiettivo di pianificare e realizzare azioni internazionali comuni nell'interesse della classe operaia. Tali alleanze non devono mai essere con partiti politici, cioè con organizzazioni che accettano lo Stato come sistema di organizzazione sociale. Il sindacalismo. Rivoluzionario rifiuta la collaborazione di classe che è caratterizzata dalla partecipazione a comitati organizzati secondo schemi corporativi statali, ad esempio, nelle elezioni sindacali per i comitati d'impresa, e dall'accettazione di sussidi, professionisti sindacali retribuiti e altre pratiche che possono rovinare la narcosindacalismo. Smascherare e combattere la violenza arbitraria di tutti. I governi contro i rivoluzionari dediti alla causa della rivoluzione sociale. Esaminare tutti i problemi che interessano il proletariato mondiale per rafforzare e sviluppare movimenti, in uno o più paesi, che aiutino a difendere i diritti e le nuove conquiste della classe operaia ad organizzare la rivoluzione stessa per l'emancipazione. Intraprendere azioni di mutuo soccorso in caso di. Importanti lotte economiche o lotte critiche contro i nemici palesi occulti della classe operaia. Dare un aiuto morale e materiale ai movimenti della classe operaia in ogni paese in cui la direzione della lotta è nelle mani dell'Organizzazione Economica Nazionale del Proletariato. L'internazionale interviene negli affari sindacali di un paese solo quando la sua organizzazione è affiliata in quel paese lo richiede o quando l'affiliato viola i principi generali dell'internazionale. V condizioni di affiliazione possono affiliarsi all'IVA, organizzazioni sindacali nazionali rivoluzionari e che non appartengono a nessuna altra internazionale. In ogni caso esisterà una sola sezione in ogni paese. Le sezioni affiliate devono ratificare i principi, la tattica e gli obiettivi dell'AIT, e inviare copia dei suoi statuti e principi alla segreteria. La segreteria comunicherà alle sezioni l'origine del contatto dei contatti che hanno richiesto l'affiliazione. Minoranze di sindacalisti rivoluzionari organizzati all'interno di altre organizzazioni nazionali affiliate ad altre organizzazioni sindacali internazionali. Organizzazioni sindacali, artigiane, industriali o generali che siano. Indipendenti o affiliate ad organizzazioni nazionali che non fanno parte dell'AIT, che accettano la dichiarazione di principi e obiettivi dell'AIT. Ogni organizzazione di propaganda unionista rivoluzionaria che accetti la dichiarazione dei principi e degli obiettivi dell'AIT che opera in un paese dove non esiste un'organizzazione nazionale affiliata all'AIT. Poiché l'AIT è costituita solo da sezioni legali o illegali, con collegamento diretto all'interno dei rispettivi paesi, gli unici gruppi che possono essere riconosciuti come sezioni dell'AIT sono quei gruppi esiliati che possono dare chiara prova al segretariato di essere autentici rappresentanti di organizzazioni che agiscono e operano nei rispettivi paesi. In ogni caso potrà esistere una sola sezione per ogni paese. I seguenti. Tipi di comportamento possono portare alla disaffiliazione o alla sospensione, mancato rispetto dei principi, delle tattiche e degli obiettivi dell'AIT. Mancato pagamento delle quote di affiliazione. Se una sezione non paga le tasse per un anno, il congresso dovrà considerare la disintegrazione delle sezioni. Se una sezione non partecipa alle riunioni e ai congressi dell'internazionale, ne risponde alle richieste di contatto del segretariato o delle sezioni, senza spiegazioni. L'affiliazione e la disaffiliazione avviene al congresso IWA. Una sezione può disaffiliarsi dall'AIT nel periodo tra i congressi. La sospensione può essere concordata durante una plenaria o un congresso sulla base di una precedente mozione, o tramite referendum se una plenaria o un congresso è d'accordo. Una. Sezione può essere sospesa per inosservanza degli statuti operazione contrari agli accordi del congresso o per interesse dell'AIT. Da accordare con mozione e decisione delle sezioni. L'adesione può essere sospesa a causa di una scissione o confusione sul fatto che una sezione rimanga ancora, in attesa di un'indagine da parte di una commissione. Se una sezione non è in regola, non paga il dovuto. Per un anno, ma il congresso ha deciso di non dissociarla, la sezione può essere sospesa. La sospensione significa che la sezione non ha diritto di voto nei congressi, nelle plenarie o nei referendum, nel diritto di presentare mozioni. Mantiene gli stessi diritti degli amici dell'AIT di ricevere documenti, partecipare a tutti i congressi e dare pareri. Se una sezione rimane sospesa per un certo periodo di tempo, il congresso può decidere di cambiare il suo status in amici, su tale mozione. V. I congressi internazionali I congressi internazionali dell'IUA si tengono ogni tre anni. Il segretariato chiederà alle sezioni, con sufficiente anticipo rispetto al congresso, questioni o suggerimenti che saranno trattati dal congresso. La segreteria redige poi l'ordine del giorno che, unitamente alle mozioni presentate, deve essere inviato alle organizzazioni affiliate almeno sei mesi prima dell'inizio del congresso. Ogni plenario a congresso viene registrato e il verbale viene redatto il più fedelmente possibile. Il verbale è soggetto all'approvazione delle sezioni. Gli accordi e le risoluzioni adottati dai congressi internazionali sono vincolanti per tutte le organizzazioni. Affiliate, salvo che tali organizzazioni, con delibera di congresso nazionale o referendum, respingono gli accordi del congresso internazionale. Su richiesta di almeno tre organizzazioni nazionali affiliate, un accordo internazionale può essere sottoposto a revisioni mediante referendum generale in tutte le sezioni. Nei referendum e nei congressi internazionali ogni sezione dispone di un voto, e. Si raccomanda di cercare l'unanimità prima di procedere alla votazione. Viri. Trasferimento internazionale ogni membro di un'organizzazione affiliata all'AIT che abbia pagato tutte le sue quote di affiliazione, ma che risiede in un paese diverso da quello in cui si è affiliato, deve effettuare, entro e non oltre un mese dal suo arrivo, il suo trasferimento all'organizzazione corrispondente. Dell'organizzazione nazionale affiliata all'AIT. Tale trasferimento dovrà essere approvato dalla suddetta organizzazione nazionale senza contributo di iscrizione. In caso di esilio forzato di massa, l'affiliazione è volontaria se esiste un'affiliazione ad un'organizzazione esiliata riconosciuta dall'AIT. Viri. Il segretariato coordinare le attività internazionali dell'AIT, ottenere e organizzare. Un'informazione accurata riguardo alla propaganda e alla lotta in tutti i paesi, per attuare al meglio le risoluzioni dei congressi internazionali e curare tutto il lavoro dell'AIT, è eletto un segretariato composto da almeno tre persone, di una o più sezioni. La sezione che tengono il segretariato è, o sono, scelta dal congresso o dal referendum internazionale. Solitamente il segretariato è tenuto da una sezione ma questo compito può essere condiviso. Il segretario generale, il tesoriere e gli eventuali altri membri saranno scelti da coloro che ricoprono la segreteria. I membri del segretariato distribuiranno i compiti e lavoreranno tra di loro. Possono altresì delegare determinati compiti ed altre sezioni. I membri di partiti politici non possono ricoprire alcuna posizione di responsabilità nell'AIT. Il segretariato è eletto come sopraindicato per il periodo da un congresso regolare all'altro. La stessa sezione, S, dovrebbe servire solo due mandati consecutivi. La le sezione che detengono il segretariato dovrebbero ruotare. Il segretariato può rientrare in una sezione che lo deteneva in precedenza solo dopo un certo periodo di rotazione. In caso di circostanze straordinarie in cui il congresso non elegge un nuovo segretariato, deve concordare le misure da adottare. Il segretariato non percepisce stipendi o pagamenti personali per l'adempimento del suo mandato. Il segretariato fornisce relazioni finanziarie periodiche all'AIT. È responsabile della diffusione della comunicazione scritta a tutte le sezioni e degli amici e della tenuta di un adeguato registro delle stesse. Deve fare una relazione scritta sulle sue attività nel periodo 3. congresse e le plenarie. La relazione deve essere presentata con sufficiente anticipo per consentire alle sezioni affiliate di acquisirsi con essa prima dello svolgimento del congresso e della plenaria. Contestualmente deve essere presentata e trasmessa alle sezioni una relazione amministrativa-economica. Il congresso e la plenaria nomineranno una commissione che durante il congresso e la plenaria. Effettuerà l'ispezione dei conti. Vice-segretariato Un vice-segretariato è eletto anche dal congresso tramite referendum. Il vice-segretariato è il solo mandato di fungere da sostituto del segretariato, nel caso in cui diventi totalmente inoperabile o venga richiamato dalle sezioni. Non ha il mandato di rappresentare l'AIT né di svolgere altre funzioni, a meno che non si tratti di compiti. Delegati dal segretariato. Richiamabilità Il segretariato può essere revocato con referendum delle sezioni dell'AIT. Per avviare il referendum, almeno tre sezioni dell'AIT devono sostenere una mozione. Sulla mozione sostenuta da tre sezioni, deve essere immediatamente indetto un referendum e le sezioni hanno 90 giorni per votare. Nel caso in cui la segreteria non avvii il processo referendario. Entro una settimana, dal momento in cui la terza sezione ha sostenuto la mozione, dovrebbe farlo il vice-segretariato. In caso di richiamo del segretariato, il vice-segretariato ne assumerà il ruolo fino allo svolgimento del prossimo congresso. In circostanze particolari, il vice-segretariato deve sostituire il segretariato, in caso di repressione politica, arresto, guerra o altri eventi di forza. Maggiore che rendano impossibile l'esecuzione dell'incarico. In questi casi la segreteria non si considera richiamata, ma sostituita. Se possibile e fattibile, la segreteria potrà essere successivamente ritrasferita a quella sezione. Qualora la segreteria non abbia funzionato per un periodo superiore a tre mesi, non rispondendo a corrispondenza, convocazioni o producendo bollettini, ovvero non abbia provveduto a convocare regolarmente il congresso o la plenaria, senza motivo consenso, causandone il rinvio di oltre tre mesi, il vice-segretariato dovrebbe assumere le funzioni di segretariato per assicurare il buon funzionamento dell'AIT. Al lato dell'assunzione di tali compiti, il vice-segretariato deve informare le sezioni e chiedere la revoca della segreteria mediante l'ITER. Referendario sopradescritto. X. Finanza per consentire all'IT di svolgere e rafforzare le sue attività internazionali e di dare solide basi alla sua propaganda scritta, consentirgli di pubblicare le sue pubblicazioni periodiche a intervalli regolari, per consentirgli di partecipare a tutte le manifestazioni della vita del sindacalismo rivoluzionario nei diversi paesi, renderlo capace di promuovere le idee del sindacalismo rivoluzionario in paesi dove le nostre idee tattiche sono scarsamente rappresentate, e, infine, per consentire all'IT di rispondere in modo soddisfacente e immediato agli appelli di solidarietà che può ricevere, ogni membro di un'organizzazione affiliata all'IT dovrà versare mensilmente, come quota di affiliazione internazionale, l'importo di un dollaro Stati Uniti. Uno Stati Uniti dollari, o l'importo equivalente in valuta nazionale, tenendo conto del valore di cambio nei paesi interessati. Per le sezioni che si trovano in difficoltà, le quote sono stabilite in accordo con il resto dell'IT. Ogni sezione affiliata deciderà autonomamente la procedura da seguire per ricevere la quota di affiliazione dai propri membri. L'IT dispone di uno speciale sigillo per timbrare la tessera associativa delle sezioni che lo desiderano. La sezione di affiliazione trasmette all'IT la quota di affiliazione stipulata con cadenza trimestrale. X pubblicazioni la segreteria pubblica, una pubblicazione che dovrebbe essere pubblicata il più frequentemente possibile. È auspicabile che tutti i giornali editi da organizzazioni affiliate all'IT o simpatizzanti con essa, riservino uno. Spazio speciale sulle sue pagine per le informazioni dell'IT, per gli appelli alla solidarietà internazionale per la propaganda generale. Volantini di propaganda, rivolti principalmente dove il nostro movimento non ha alcuna organizzazione nazionale affiliata. Tutte le altre pubblicazioni, periodiche e non, che il congresso deciderà. Questa versione degli statuti è stata approvata dal. Congresso straordinario dell'IT il 27 giugno 2000.